E adesso ero qui a farmi dare del perdente da un... Ma così... Per 18 anni... Avevo tenuto una rubrica su un'idea... Simpatica sto... E' un studio che mi... Mi amavano di venire, sì... Vieni per fuori a vederti... Torniamo qui con due premi... Pulitzer... Pulitzer... Delle storie, sì... Avete? Venimo lasciati... Dice... E' tornato con... Una dose di rispetto... Finchè non arrivò... Trezzo... Non conta solo il codice penale, conta anche una etica... Torniamo al punto, per selezionare una diversa classe dirigente occorrono due cose. Da una parte intervenire sui meccanismi di selezione, ho già detto prima, basta con gli stimi bloccati, riconsegniamo alla gente la possibilità di scegliere. Il che non ci garantisce che tutte le persone che la gente sceglierà saranno immacolate.